No, no, no. 5 anni fa Berluni decise di chiedere il fallimento della società, poi nel 2016 iniziarono le aste in tribunale e dopo diverse offerte andate a vuoto il prezzo è stato notevolmente ridotto. L'intero complesso è stato diviso in due lotti, il primo di quasi 23.000 m2 comprende la struttura destinata alle cure e il terreno circostante, il secondo che andrà all'asta il prossimo 21 settembre è relativo ai terreni edificabili di 26.000 m2 all'interno del comparto turistico in cui è prevista dal piano regolatore la realizzazione di strutture ricettive. Prezzo 530.000 euro. Per cercare di sensibilizzare privati e istituzioni un'ex operatrice termale ha costituito un gruppo su Facebook che ad oggi conta oltre 2.800 membri. Ho aperto questo gruppo Facebook che si chiama appunto Riapriteci le Terme di Carignano ed è un gruppo Facebook che mi sta dando veramente tante soddisfazioni. Io pensavo di essere una tra le poche ad essere così innamorata di questo posto, in realtà ho scoperto che non è così. Faremo in modo di farci portavoce di tutte queste persone che grazie a Dio mi stanno venendo dietro e mi stanno supportando. Beatrice questa mattina ha avuto un incontro in comune anche per segnalare la situazione di degrado in cui versano sia i terreni che gli edifici. L'assessore Cristian Fanesi ha dato piena disponibilità nel collaborare fino a che non venga trovato un acquirente. Oltre ad informarsi e fare delle verifiche, Fanesi si è preso l'impegno di affrontare il problema con il curatore fallimentare. Sinceramente si è prospettata anche questa situazione di un eventuale imprenditore interessato a ripristinare il tutto. Quindi io penso che sia veramente necessario che il comune intraprenda e apra una strada prioritaria per questa persona che ha voglia di investire. In realtà le terme di Carignano molti mi dicono che sono delle terme, sono una struttura praticamente di privati. In realtà erano di privati e adesso sono all'asta. Però sinceramente le acque termali sono un bene pubblico che vengono utilizzate per trattamenti sanitari. Quindi è molto importante che non perdiamo la concessione di queste acque perché dobbiamo ricordare che lo sfruttamento minerario delle acque termali viene dato dalla Regione. E se la Regione decide poi che non viene fatto un giusto utilizzo di queste acque potrebbero revocare il tutto. Io penso che prima di perdere questo gioiello, questo bene prezioso che abbiamo per noi, per la cittadinanza, bisogna eventualmente intervenire e riuscire a fare qualcosa.